La calunnia è un venticello Buonasera cari concittadini e cari amici Non so se quando Rossini diceva che alla calunnia è un venticello nel barriere di Siviglia pensasse ai moderni social network però la frase mi sembra quanto mai opportuna tanto che sono qui stasera con questo video per replicare ad alcune inesattezze che abbiamo sentito negli ultimi giorni in particolare è stato detto che il comune di Minervio non potrebbe opporsi alla proposta di sovrappressione di Stogit perché avrebbe paura di restituire dei soldi che ha ricevuto e non è così e cosa ancora più assurda che nell'incarico, nel progetto, nello studio di livello europeo che abbiamo conferito a INGV cioè l'Istituto Nazionale di Sofisica e Vulcanologia un'eccellenza nella ricerca scientifica il comune di Minervio sarebbe in conflitto di interessi con questa se avete qualche attimo di pazienza e mi state ad ascoltare adesso proverò a spiegarvi perché si tratta di due assunità partiamo provando a chiedere il primo punto allora, cosa succede? qualche anno fa la nostra amministrazione comunale preoccupata dalle prime evidenze scientifiche su una possibile correlazione tra l'attività di stoccaggio gas nel sottosuolo e la micro sismicità locale ha interessato la Regione Emilia Romagna affinché fosse svolta a Minervio, sul nostro sito specifico, un apposito studio per verificare se ci fosse o meno questa relazione la Regione Emilia Romagna insieme al Ministero nell'ambito di un più generale progetto di linee guida per monitorare questo tipo di fenomeni ha scelto proprio Minervio, vista la nostra disponibilità e il nostro interessamento per condurre uno studio scientifico di rilievo più che nazionale addirittura europeo su questa materia chiaramente svolgere uno studio del genere ha un costo e anche importante abbiamo ritenuto che fosse, secondo i normali canoni delle politiche ambientalistiche mettere questo costo a carico di chi realizzava l'attività potenzialmente critica per il nostro territorio quindi a carico di Stogit e che fossimo noi, noi pubbliche amministrazioni a scegliere chi dovesse svolgere lo studio un po' come se uno vincesse una borsa di studio e poi decide liberamente quale università andare a frequentare io non riesco a vedere in questo nessun conflitto di interesse anzi, l'esatto contrario le pubbliche amministrazioni, per come le intendiamo noi sono le prime garanti dei cittadini perché sono espressioni dei cittadini stessi quindi insieme a Regione e Ministero fra i vari soggetti che si potevano scegliere abbiamo individuato un'eccellenza italiana nello studio scientifico del sottosuolo cioè INGV l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia quindi i costi di questo studio li abbiamo messi a carico di Stogit ma Stogit non paga direttamente chi svolge la ricerca quindi INGV versa questo denaro al Comune di Minervio ci pensa poi il Comune di Minervio che si è reso disponibile da questo punto di vista ad essere il soggetto committente per conto anche del Ministero e della Regione nei confronti di INGV stessa non solo i risultati di questo studio sono monitorati da un apposito comitato scientifico nel quale ci sono rappresentanti dei vari enti che abbiamo detto prima fra cui abbiamo insistito ci fosse un rappresentante anche del Comune di Minervio i risultati sono stati trimestralmente pubblicati sul sito internet di Minervio perché fossero assolutamente trasparenti nella disponibilità massima li trovate ancora oggi pubblicati sul nostro sito e sono assolutamente consultabili credo che questa non solo non sia una pratica negativa il contrario su una pratica virtuosa bisognerebbe tutte le volte che c'è un'attività nel nostro paese potenzialmente negativa avere la pubblica amministrazione che riceve da chi esercita costatività le risorse economiche per cui poter svolgere con il miglior partner scientifico disponibile questo tipo di studi bene proviamo adesso a chiarire il secondo punto le famose compensazioni ambientali allora cosa è accaduto nel novembre 2012 il Consiglio Comunale di Minervio dopo un lungo percorso che ha visto la consultazione di decine e decine di nostri cittadini in una seduta pubblica davanti ad un centinaio di persone presenti ha provato due convenzioni una con SNAV-Altigas ed una con Stoji entrambe avendo ad oggetto la disciplina delle compensazioni ambientali che secondo noi il nostro territorio merita dato che noi ospitiamo questi impianti tecnologici di rango nazionale autorizzati dai ministeri che sono quantomeno ingombranti crediamo che sia giusto che il nostro territorio riceva una compensazione da utilizzarsi esclusivamente come abbiamo fatto per politiche ambientali quindi una potenziale criticità per l'ambiente viene compensata da politiche virtuose per l'ambiente bene ma vediamo quali sono i contenuti esatti di questa convenzione che abbiamo stipulato con Stoji questa prevede che a fronte di un progetto di potenziamento della centrale che prevede tutta una serie di interventi fra cui anche ma non solo l'eventuale esercizio di sovrappressione si è riconosciuto al nostro comune per finanziare politiche ambientali la somma di 2.200.000 euro che mi sembra un bel risultato per il nostro territorio come spesso prassi in accordi di questo tipo il pagamento è articolato in diverse voci a seconda di quello che si va a compensare la prima voce del 30% pari a 660.000 euro aveva la finalità di andare a recuperare il progresso quindi andare a recuperare quello che è stato fatto nel nostro territorio in passato che mai era stato compensato e questa era legata alla mera stipula della stessa convenzione di cui parliamo la seconda voce, la seconda tranche di pagamento volevo dire pari al 20% per 440.000 euro invece era legata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni per le sostituzioni delle turbine TC3, TC4 e TC7 cioè le macchine che spingono, che aumentano la pressione del metano per spingerlo nel sottosuolo bene, apro una piccola parentesi la sostituzione di queste macchine è uno dei risultati ambientali più importanti che siamo riusciti ad ottenere siamo riusciti a far sostituire le vecchie turbine che inquinavano abbastanza per circa 190 tonnellate all'anno di aglio X con nuove macchine che vanno ad inquinare, ad emettere in atmosfera solamente 40 tonnellate all'anno di aglio X ricordo che gli assodi di azoto sono dei principali precursori del particolato secondario terza tranche di pagamento pari nuovamente al 20% quindi 440.000 euro era legato all'autorizzazione dello scavo di un nuovo pozzo nel quale dovesse essere collocata proprio della strumentazione per un miglior monitoraggio infine, ultima di queste tranche di pagamento quarta, per il 30% nuovamente quindi 660.000 euro legata all'eventuale ottenimento dell'autorizzazione per la famosa sovrappressione quindi se non venisse rilasciata dal Ministero l'autorizzazione per la sovrappressione ecco che non verrebbe effettuato questo pagamento al Comune di Minervo da 660.000 euro ma vorrei sottolineare che è assolutamente corretto questo perché non stiamo parlando di accordi commerciali stiamo parlando di compensazioni ambientali se non viene realizzata quella specifica attività che porta una criticità nel territorio non è naturalmente corretto che venga riconosciuta quella corrispondente compensazione ambientale quindi, riassumendo il Comune di Minervo ha incassato fino al momento da Stogit 1.540.000 euro che ha integralmente destinato a politiche ambientali quali? ad esempio ha rifatto gli infissi della casa protetta per migliorare l'efficienza energetica ha installato pannelli fotovoltaici proprio sul tetto di questo edificio ha migliorato l'efficienza energetica del nuovo spogliatoio della scuola media ha fatto sì che il nuovo Asino Unido fosse un edificio N0 Near Zero Mission Building ha cambiato gli infissi nelle altre scuole ha cambiato le caldaie insomma, ha fatto tutti gli interventi finalizzati ad avere un patrimonio edilizio comunale a basso consumo energetico con ovvio miglioramento dell'ambiente oltre che delle condizioni di vita interne a questi edifici solamente l'ultima parte di questa compensazione e di questa convenzione quei 660.000 euro sono legati alla sovrappressione le altre cifre di cui vi ho parlato fino adesso quei 1.540.000 euro non deve, qualora non venisse autorizzata la sovrappressione non deve essere restituito quindi è completamente restituito di fondamento ogni interpretazione che porti a dire che il comune di Mineglio per timore di dover restituire qualcosa possa o non possa assumere una certa posizione in merito alla sovrappressione ogni lettura diversa è completamente sbagliata nel senso che queste risorse di cui si parla in un passaggio della convenzione di restituzione sono comunque legate a tutto il progetto complessivo non solo ad una parte di queste quindi se non si facesse l'intervento in sovrappressione non verrebbero riconosciute al comune di Minervio gli ultimi 660.000 euro e non altro bene, ora qualcuno ritiene che qualora non fosse autorizzata la sovrappressione una parte di questo 1.540.000 euro dovrebbe essere restituito no posso garantirvi che si tratta di un'interpretazione infondata venendo al merito della convenzione per spiegarlo l'articolo 4,2 ci dice che nel caso in cui i procedimenti autorizzativi ministeriali di quella premessa di abbiano un esito finale negativo il comune restituirà a Stogit la somma di cui al punto A bene se però abbiamo la pazienza di andare a leggere cosa prevede il punto D vediamo che non si parla solamente di sovrappressione ma si parla di tutta un'altra serie di voci che sono già state fra l'altro autorizzate e più in generale la stessa premessa D richiama la premessa C che parla di un progetto composto da varie voci di cui la sovrappressione è solamente una delle cinque quindi mi rendo conto del tecnicismo ma non è assolutamente sostenibile che il comune di Minervio sia condizionato nella sua azione dal fatto che vengo o non venga autorizzata la sovrappressione per paura di dover restituire alcuni denari questa interpretazione posso garantirvi che è del tutto scorretta vero è tutt'altra cosa e cioè l'ultima tranche di pagamento quella sì legata alla sovrappressione pari al 30% dei 2 milioni e 2 e quindi di 660 mila euro è stata divisa in due parti perché perché qualche mese fa abbiamo chiesto l'anticipo di una del 50% di questa cifra solo per motivi tecnici di bilancio di copertura di finanziamenti in particolare della rotonda che deve sorgere che sta sorgendo che sta ormai per essere finita all'incruzzo tra via Marconi e via Montalcini bene a parte che questa rotonda serve per realizzare la nuova circondazione quindi per spostare dal centro del paese i mezzi pesanti e quindi permettere a tutti quanti noi di respirare un'aria decisamente migliore però vi dicevo solo questi 330 mila euro dovrebbero essere restituiti in caso di mancata autorizzazione della sovrappressione quindi questo non può condizionare in alcun modo la nostra amministrazione comunale che ha fatto investimenti per 26 milioni di euro negli ultimi dieci anni e che ha un avanzo di amministrazione di oltre 6 milioni di euro cioè stiamo parlando di una cifra che è poco più del 2% di quelli che sono stati i nostri investimenti negli ultimi anni quindi assolutamente ai limiti del assolutamente ai limiti del trascurabile ma non solo dato che noi sappiamo fare bene i contratti abbiamo convenuto che l'eventuale restituzione di questa somma perché c'eravamo fin da subito tenuti la porta aperta per l'eventuale mancata autorizzazione della sovrappressione vi dicevo questa restituzione si è ad effettuare in 10 anni e a tasso di interesse zero ora non trovereste interessante che qualcuno vi presti dei soldi per poterli restituire in 10 anni e senza tasso di interesse io credo che abbiamo ancora una volta fatto un ottimo contratto a vantaggio della nostra amministrazione comunale cari amici e concittadini vorrei che questo video possa aver dato una mano a chiarire come stiano davvero le cose grazie per chi ha avuto la pazienza di arrivare fino in fondo e di ascoltare tutti questi passaggi tecnici proprio come al solito per gettare la calugna sugli altri ci vuole poco per spiegare come stiano davvero le cose ci vuole molto più impegno se avete avuto la pazienza di arrivare fino in fondo credo che ne abbiate avuto tutti gli elementi per farvi davvero un'idea non solo su come è andata questa vicenda ma soprattutto quale attenzione abbia messo questa amministrazione comunale sulle tematiche ambientali e quale scrupolo dedichi sempre nella redazione dei suoi atti io vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e naturalmente auguro a tutti quanti una buona serata grazie a tutti grazie a tutti